Max Di Mito sarà il nuovo referente tecnico della squadra di nuoto agonistica SDS, specialisti dello sport. Un tecnico di altissimo livello, Max Di Mito è molto conosciuto per essere stato colui che ha scoperto la campionessa di nuoto Federica Pellegrini e che l'ha portata anche a vincere la sua prima medaglia olimpica ad Atene. La SDS è nata su impulso di alcune società di nuoto aquilane che hanno deciso di collaborare per superare anche alcune difficoltà legate alla gestione degli impianti sportivi in città. La SDS nel tempo si è allargata accogliendo al suo interno anche società di Pescara, Vezzano, San Salvo e Teramo, quindi un bacino regionale molto ma molto importante. Il progetto è stato presentato in comune alla presenza di Massimiliano Di Mito, del consigliere comunale vicepresidente della terza commissione politiche sociali, culturali e formative Giancarlo Della Pelle, del referente SDS Cristiano Carpente, del presidente Rarinantes L'Aquila Giovanni Benevieri e di Fabio Ianni, presidente di dimensione nuoto L'Aquila. Presenti anche vari atleti delle società dell'Aquila, Pescara, Vezzano, San Salvo e Teramo. Un onore avere all'Aquila Max Di Mito, certamente la sua collaborazione rappresenta un salto di qualità importante dal punto di vista tecnico per tutta la regione, così Cristiano Carpente che ha spiegato anche gli obiettivi di questa collaborazione SDS. Un progetto nato con l'obiettivo di favorire il coinvolgimento dei ragazzi in una realtà sportiva che superasse il campanilismo delle singole società, pur mantenendo però una propria identità di gruppo. Il progetto, oltre alla valenza sociale, dà anche ottime risultati dal punto di vista sportivo. Il prossimo anno agonistico vedrà Max Di Mito, tra i più grandi tecnici italiani, coordinare il lavoro di tutti i 12 tecnici presenti in SDS e la sua presenza sarà un contributo importante e notevole al miglioramento tecnico di tutto il gruppo. Ho accettato questo incarico perché questo gruppo mette al centro gli atleti, così ha detto invece Massimiliano Di Mito. Sono convinto che nello sport in generale, in particolare nel nuoto, i progetti di collaborazione, aprendo possibilità di uso di impianti, ma anche di circolazione delle competenze, siano gli unici che possano creare grandi risultati.